ciao a tutti amici e amici bentornati e bentrovati nel canale di mamma formiga e gigiolino oggi blog family blog andremo a fare alcune cosette stamattina ce ne andremo in spiaggia con gli amichetti di rigolo quindi passeremo un paio di ore al mare poi torneremo a casa e preparerò il pranzo oggi pomeriggio mi farò da sola le unghie dei piedi andrò a fare la pedicure e poi andrò a fare la ricostruzione ed infine stasera andremo a vedere lo spettacolo del magia fuoco e niente vi lascio la visione del video ciao a dopo ciao a tutti 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 allora per passare il gel sui piedi prima di tutto ho passato la fresa e ho tolto il vecchio smalto poi ho passato la base e adesso vado a passare lo smalto gel ho scelto questo colore rosso mi piace il rosso nei piedi questa è la prima mano la prima passata poi andrò a polimerizzare per due minuti e farò una seconda passata ciao a tutti 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 Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!